Questo video ce l'ho in cantiere da un po', è stata la sconfitta di Cody Rhodes a farmi ponderare la generazione di questa classifica perché secondo me è stata una bella trollata nei confronti dei fan, tutti si aspettavano la vittoria dell'American Nightmare e la fine, la conclusione del regno di Roman Reigns e invece a vincere è stato ancora una volta il Tribal Chief. Prima di iniziare col video volevo sponsorizzare, l'ho già fatto in passato, una land di un gioco di ruolo play by chat stile Dungeons & Dragons, avete presente, vi create il personaggio, statistiche e tutto, ambientata nel mondo di Naruto. Ci sono tutti i clan che avete visto nell'opera, attualmente stanno combattendo contro gli Otsutsuki, se avete presente gli alieni tipo Kaguya nel finale di Shippuden o buona parte della trama di Boruto, potete scegliere il vostro villaggio, in cosa specializzarvi, quale premio utilizzare e partirete con una buona dose di esperienza, quindi potrete già impostare la vostra build come volete c'è una bella community attiva, c'è un Discord, muovetevi, su, vi aspetto, io ci gioco già. Quindi senza dilungarci poi troppo, bando alle ciance, createvi delle false aspettative che puntualmente non verranno rispettate gioite per un evento che poi si rivela essere l'opposto di quello che pensavate voi e allacciate le cinture perché fuochi e fiamme amici sono il vostro certified why e queste sono 5 trollate enormi della WWE, cambierà il titolo, cambierà, non l'ho ancora pensato, va bene? Potrebbe essere 5 trollate epiche fatte dalla WWE, così mi piace già di più, scherzo epico finito male. Numero 5, Shemus contro Daniel Bryan, avreste il media 28. Daniel Bryan e Shemus sono due dei performer più amati degli ultimi anni in WWE, soprattutto l'American Dragon è protagonista di una storia di redenzione incredibile, che è culminata a WrestleMania 30, ne ho parlato spesso, il trionfo perfetto contro le angherie dell'autority. Ma due anni prima di quella leggendaria edizione del Granddaddy of the Mall, la WWE ufficializzò un match tra Daniel Bryan e Shemus per WrestleMania 28. Il Celtic Warrior era in un periodo in cui sembrava davvero inarrestabile, e Bryan era invece l'underdog seguito e amato da tutti i tifosi che erano pronti a esultare ad una sua vittoria. Era il periodo in cui Danielson appariva on screen insieme a DJ Lee, avevano questa tresca amorosa, e proprio prima della contesa, mentre il pubblico era carichissimo, stava per esplodere dall'emozione, Bryan diede un bacio a DJ Lee, si girò e prese un brogue kick dritto nel muso, e dopo 18 secondi venne schienato dall'irlandese, lasciando il pubblico di stucco, tanto che alcuni pensarono che avrebbero ripetuto il match o Bryan avrebbe fatto qualcos'altro. Ma non fu così, e stando alle voci la WWE voleva fare qualcosa per lasciare senza parole il WWE Universe. Bell'idea di me! Numero 4. The Miz, che si presenta come The Rock. Prima che Kevin Owens fece la stessa cosa imitando Stone Cold, nel 2012 a Raw, nell'arena partì la leggendaria teen song del campione del popolo, che era annunciato come host della 27esima edizione di Vrestelmania. Nel main event c'era appunto The Miz contro John Cena per il titolo mondiale. L'attore di Hollywood fu assente per buona parte della faida, ma ad un certo punto, in una puntata dello show Rosso, E figlio Smell, ma a presentarsi fu The Miz con una finta pelata in testa, che si attirò addosso una quantità di hit incredibile, e mi fece innamorare ancora di più di lui. Non è una novità, è uno dei miei performer preferiti di sempre, il Magnifico, nonostante sul ring abbia il suo stile non eccezionale, ma comunque adatto al personaggio, ma fuori dal ring è qualcosa di incredibile. Numero 3. Il General Manager Anonimo. Una storyline che coinvolse tantissimo i tifosi, durò più di un anno, dal giugno del 2010 al luglio del 2011. Questo laptop presente vicino al tavolo dei commentatori, che ogni tanto mandava delle notifiche a nome di questo General Manager Anonimo, veniva lette da Michael Cole, e tutti si aspettavano un grandissimo nome per questa storyline. Cioè, pensate un computer che comanda uno show per più di un anno. Sembra un po' un'idea del ca... però era coinvolgente, perché tutti si aspettavano, chissà, non lo so, lo stesso The Rock già citato prima, o qualche leggenda, o una nuova superstar, e invece la storyline andò alla deriva, probabilmente qualcosa non funzionò, e il General Manager Anonimo designato ebbe qualche problema con la compagnia, non lo sapremo mai, e venne rivelato che per tutto questo tempo, quindi per 13 mesi, a gestire lo show del lunedì notte è stato Orzwoggle. Cioè, uno che non sapeva nemmeno parlare. Vabbè, lasciamo perdere. Un vero disastro. Numero 2. Shawn Michaels che trolla Montreal. Allora, prendiamo il famosissimo skew job di Montreal, facciamo una rapida sintesi. Shawn Michaels contro Bret Hart. Bret Hart deve andarsene dalla WWE, e il campione mondiale non vuole perdere in Canada, anche se è risposto a perdere la cintura. Quindi cosa fa Vince McMahon? Fa finire il match senza che Bret Hart abbia ceduto, e gli ruba il titolo. Questo ha scatenato un putiferio sia tra i fan che in Bret Hart stesso, che ha fatto un disastro backstage, supportato anche da Undertaker, e questo portò il canadese ad odiare tantissimo la compagnia, fino al riappacificamento, finché non fecero pace qualche anno dopo, qualche decennio dopo. E HBK cosa pensò bene di fare? Si presentò su Ring a Montreal, era il 2005, quindi meno di dieci anni dopo, la faccenda era ancora calda, e tutti odiavano l'Heart Break Kid da quelle parti. E durante un suo promo, sommerso dai fischi, risuonò la canzone, la team song, di Bret De Hitman Hart. L'arena esplose, crollò, uno dei pop maggiori di sempre. Shawn Michaels spiazzatissimo, tremò quasi di paura, non se l'aspettava, e invece era tutta una trollata di HBK che scoppiò a ridere, mentre i fan esplose il cuore dalla delusione. Guarda qui Lisa, si può persino individuare il secondo preciso in cui il suo cuore si spezza a metà. Eeeh... Adesso! E la reazione fu qualcosa di inimmaginabile, davvero, recuperatevi quel segmento, non posso mettervelo intero ovviamente, però si trova facilmente sul web. Incredibile, qualcosa di pazzesco. E meritava sicuramente il primo posto in questa classifica, ma visto che sono un fanboy del prossimo atleta, numero uno, il ritorno di CM Punk. Scusate, scusate, lo so, faccio schifo. Pochi mesi dopo l'abbandono di CM Punk post Royal Rumble, Raw andò a Chicago, terra natale del Best in the World. E per anni i fan hanno sperato in un suo ritorno, e puntualmente a Chicago i core in suo favore raggiungevano decibel elevatissimi. Davvero, il WWE Universe in quel periodo sabotava praticamente tutti gli eventi, urlando il nome di Phil Brooks. E in quella puntata del 2014, all'Allstate Arena di Chicago, partì Colt of Personality. Potete capire anche voi che infarti, persone ricoverate d'urgenza all'ospedale, di tutto e di più. Ma chi uscì? CM, no, Paul Heyman. Uscì Paul Heyman, che raggiunse il centro del ring, sedendosi a gambe incrociate, stile CM Punk, e dicendo che, no, CM Punk non è qui, mi dispiace, pezzi di fango. È allo United Center a vedere i Black Hawks. Eh, cazzi vostri. Fu anche la prima volta che venne menzionato il nome di CM Punk in diretta, dopo il suo abbandono. Trollata, epica, finita, bene, o male. No, male perché non è più tornato in WWE, però bene perché, a posteriori mi ha spezzato dalle risate. Bene ragazzi, fatemi sapere voi qui sotto nei commenti, qual è la trollata della WWE che più vi ha lasciato la mare in bocca, forse The Fiend che viene demolito da Goldberg, potrebbe essere. Oppure, Otis che vince il Money in the Bank. Eh? Non posso far altro che augurarvi un buon proseguimento di giornata, ci sentiamo con l'analisi di SmackDown, non so se sabato o domenica in realtà, perché forse sono via un paio di giorni a vivere la mia vita. E vi saluto con il solito e calorosissimo, ciao! 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 Ciao!